Rai da notturno al Cheope, aperti i garage, scassinate le auto e saccheggiati gli abitacoli, 13 veicoli colpiti, caso analogo nella zona della Raffalda, indaga la polizia. Sorveglianza speciale alla casa del sindaco, telefonate anonime e un'auto sospetta nei pressi dell'abitazione dei dosi, hanno indotto il questore ad istituire il servizio d'ordine e di vigilanza. Addio al semaforo di via Beverora, è previsto nella ipotesi al vaglio del comune che prevede anche il senso unico sul corso dalla statua di Sant'Antonino al Dolmen, cittadini e commercianti divisi. Monticelli protesta al Magna Park, 60 lavoratori in sciopero lamentano il contratto disatteso dalla cooperativa, avviate le trattative nel pomeriggio. Coprelior, la grande vigilia domani alle 20.30, super sfida di Champions League con i russi dello Zenit Kazan, in palio la Final Four di Ankara. Sale la febbre per il derby, Piacenza e Proverso la gara prevista domenica al Garilli, per Amodeo decisivi saranno i tifosi.